Nick però ti ricordo una roba, parliamo chiaro, lui ha avuto problemi con, oltre a Ozyman, questa cosa grave prendendolo per il culo a sto ragazzo qua, ha avuto problemi con l'Avezzi, ma si dà le zappe a lui sui piedi. Ricordiamoci, ha avuto problemi con Gonzalo Iguain, lei te lo ricordi? Certo. Lui ha avuto problemi con Iguain, quando Iguain aveva discusso con lui, lui, ricordiamoci, tutto sto giochino qua che si è rotto e per il suo egocentrismo, a lui non gliene frega niente di niente, a lui gliene frega comandare, decidere e prendere soldi. Però così non gli prendi i soldi, se tu fai una cosa naturale, poi lo vendi. Lui pensa che andrà da Ozyman e gli dirà, vabbè, ok, troviamo e ti do 10. Io penso, per come si è comportato, ripeto, in 40 anni non ho mai visto una roba grave fino a sto punto qua, io penso che la situazione non si andrà a risolvere, non si andrà a risolvere, Nick.